Certo, assolutamente, quindi niente, presentiamo Basso Dorrado, Ballo Serio e Lillo Schiresu Grazie, Schiresu, e sono accompagnati dal bravissimo e giovanissimo, diciottenne, è giusto? Infatti già diciottenne, sì maggioreenne, dal giovanissimo Filippo Chelo di Nugedo San Niccolò A voi gruppo folk, città di Oschiri A voi gruppo, 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 città di Oschiri Città di Oschiri A voi gruppo, città di Oschiri Città di Oschiri Città di Oschiri A voi gruppo